La Chiesa ha ricevuto l'Eucaristia da Cristo suo Signore non come un dono o un prezioso Ma come il dono per l'eccellenza perché il dono di sospesso è la sua persona e la sua nata umanità La Chiesa ha ricevuto l'Eucaristia da Cristo suo Signore non come un dono di sospesso